Benvenuta estate, ha preso il via ieri la bella stagione. Si lavora per assicurare divertimento e mare pulito. La capitaneria di Porto in prima linea con controlli a tappeto lungo il litorale nell'entroterra. Se la campagna è maglia nera, il cilento brilla per le sue 14 bandiere blu. Festa ad Ascea. Un bambino di 8 anni, il ferito più grave del rocambolesco incidente avvenuto la notte scorsa ad Eboli, coinvolta una famiglia di cava dei Tirreni. Ci sono voluti vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere delle auto accartocciate. Spari ieri sera a Napoli, ucciso un parcheggiatore e ferito un 19enne. Minacciano di sospendere gli straordinari medici del pronto soccorso di Nocera Inferiore, i sette camici bianchi interni più quelli che provengono da altri ospedali per coprire le prestazioni aggiuntive pronti a sospendere il servizio Alpi e da dieci mesi che non vengono pagati. Scafati capitale dello street basket, fino al 29 giugno è in scena l'Albatross Cup giunta alla quarta edizione.